Buonasera dal Tg1, prosegue lo scontro sulla relazione tecnica del decreto dignità in relazione al tema della possibile perdita di 8 mila pozzi di lavoro l'anno. Di Maio smentisce tensioni con il Ministero dell'Economia e la Ragioneria di Stato e dice troveremo la manina che ha agito. L'Inps è sotto accusa, per Tria le stime sono discutibili, il Vice Premier Salvini chiede le dimissioni del Presidente dell'Ente Tito Boeri che replica i dati non si fanno intimidire. I servizi d'apertura sono di Paola Cervelli e Mario De Pizzo. È l'Inps a finire sotto i riflettori del Governo ancora alla ricerca della manina, così la definita Di Maio, che avrebbe inserito nella relazione tecnica al decreto dignità il numero della discordia. Gli 8 mila posti di lavoro l'anno che andrebbero persi con le nuove norme sulla base di stime dell'Istituto di Previdenza. Dopo le tensioni col MEF, una nota congiunta di Di Maio e Tria puntualizza. Le accuse del Vice Premier non sono rivolte a Via 20 Settembre né alla Ragioneria Generale. Non è lì, si precisa, che va cercato l'autore della manomissione, come l'ha definita Di Maio. Quindi la presa di distanza di Tria dalle stime Ips. Sono prive di basi scientifiche e dunque discutibili, dice il Ministro delle Finanze. Si tratta delle stime a cui poi appone il suo timbro la Ragioneria dello Stato prima della firma del Quirinale. Ma è Salvini ad essere più esplicito. Il Presidente Ips Boeri continua a dire che la legge Fornero non si tocca, che gli immigrati ci pagano le pensioni, che questo decreto crea disoccupazione. In un mondo normale qualunque, se non sei d'accordo con niente delle linee politiche, economiche e culturali di un governo, e tu rappresenti politicamente, perché il Presidente dell'Ips fa politica, un altro modo di vedere il futuro, ti dimetti. Replica con una lunga nota Boeri, che parla di attacco senza precedenti alla credibilità di Ips e Ragioneria. Due istituzioni, scrive, nevralgiche per la tenuta dei conti e per offrire supporto informativo alle scelte del Parlamento. Siamo, afferma il Presidente Ips, ai limiti del negazionismo economico e conclude, i dati non si fanno intimidire.